Proust e PRG, i nuovi strumenti urbanistici per la città, che cosa cambia a Palermo? Sostanzialmente non cambia molto ma si mette in moto una macchina, che è la macchina che farà sì che questa città avrà una nuova prospettiva urbanistica con la linea di guida del PRG. I Proust dobbiamo dire che li abbiamo approvati in zona Cesarini, quasi allo scadere di quello che prevedeva il Ministero, sostanzialmente sono piccoli interventi che i privati avevano presentato nel 2006, noi li abbiamo approvati nel 2013, quindi credo che dobbiamo fare frutto e tesoro di questa esperienza per dire che i tempi della politica non possono essere così lunghi perché nel frattempo gli imprenditori chiudono e la città muore.